Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Miticotto, siamo tornati di nuovo insieme a Minecraft non ho fatto un granché nel frattenco, sono i zombie che se ne va al posto di attaccarmi intanto ho solo minato un pochettino, l'ho trovato solo più in questo momento vorrei farmi un pezzo sull'armatura in ferro, però non lo faccio perché se mi faccio un pezzo, voglio farmi diudo al corpetto, come si chiama uuuuuh Enderman mamma mia quando non ti ricordo come si fa lo scudo ecco mi viene ancora un po' oddio non c'è la crafting, ripigliate la crafting fai il piccone in ferro immediatamente guarda qui cosa ho fatto sono un imbecille sono un imbecille ma dai ce l'avevo nell'inventario ma dai ce l'avevo nell'inventario sta registrando giusto? si no ah ecco infatti sto per urlare non uno ma insieme o oh i no solo 4 no è già tanto che ne abbiamo trovati che abbiamo trovato i pumili diamanti un muro è un botone mi dimenticato giocavo off camera ho trovato questa è la schede ora ho rischiato la morte c'è uno scheletro una che sono dei lapis lazuli vado subito a prendere sindaco trovato un po di ferro mi sono fatto un altro piccone in ferro il corpo speriamo di trovare altri diamanti qui sarà difficile oh ok altro ferro ce n'è altro no ah si ce n'è altro qui pure un dungeon cosa è quella roba raga stra pieno di muschio bimbo akbar eccola raga abbiamo cibo che bello finalmente abbiamo cibo no non riesco ok buttiamo un po di roba possiamo mangiare dicevo possiamo mangiare no ciao ok non l'ho guardato mannaggiammi però mannaggiammi però no 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 si mette male esplodi bravo no 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 come la raga spiazza a no 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 ecco ora si facciamo devo abbattere un albero per un pezzo di legno presa un po di legno che abbiamo gli alberi se ne piacciamo uno qui e un altro ancora ho un'ascia e non ho paura di usarlo due livello 10 non sono ancora morto ma che pro che sono ok siamo qui il video finisce qui to be continued